ciao a tutti ragazzi eccoci qua anche oggi con un nuovo video e come vedete un'inquadratura vicinissima perché oggi siamo qua con una cosa decisamente molto trash perché se vi ricordate nel video degli acquisti circa di settembre credo perché questa cosa l'ho acquistata al mare ho acquistato appunto questa roba questo uovo di sirena infatti qui possiamo leggere che è un uovo di sirena c'è anche scritto in piccolissimo che basta aggiungere dell'acqua per vedere per non riesco a leggere ve lo giuro per rivelare la sirena l'amica sirena insomma una cosa del genere qui ovviamente c'è la sirenetta che secondo voi sarà mai così che esce dal guscio dell'uovo che poi le sirene nascono dalle uova non lo sapevo l'ovetto dentro come vedete è azzurro nella parte superiore c'è reciclato lo stesso identico design che abbiamo visto davanti perché queste cinesate tendono a riciclare ovunque la stessa roba sul lato magicamente c'è un'altra sirena ovviamente la solita scritta ma c'è un'altra sirenetta che non lo so io ho i miei dubbi che questa roba sarà così realmente e ho un po di paura anche da questa parte è identico e sul retro invece come vedete ci spiegano come fare aggiungere l'acqua attendere 12 24 ore 12 24 ore hanno di più 48 ore in 12 24 ore inizia a fare le crepe poi in 48 ore si schiude o mio dio aiuto e dovrebbe uscire una cosa del genere ma voi ne siete proprio convinti io sinceramente no sono sicuro che uscirà una merda probabilmente sarà una cosa gelatinosa come quella dei dinosauri di sbabam ma visto che mi diverto sempre a fare queste minchiate iniziamo subito allora come contenitore ho preso questa tazza in modo che sia trasparente e riusciamo a vedere all'interno meglio aggiungiamo subito l'acqua che credo e spero sia sufficiente così e andiamo ad aprire questa cosa quindi apriamo tiriamo fuori tutto la scatola la facciamo sparire e ah ok insomma si era qua dentro si è già aperto e questo qui è l'ovetto grow in water se l'abbiamo capito che cresce in acqua ma è stranissimo oddio a parte che penso si potrebbe anche aprire da qua perché però è stra duro plasticaccia dura oddio sono un po terrorizzato c'è un buco sopra ci sono due buchi sotto all'interno c'è qualcosa che che traballa non si riesce a sentire ma si sente in mano che c'è qualcosa che pesa ma quindi cosa facciamo andiamo immergerlo è carino comunque così vi dico la verità anche perché è un po sfumato a parte questa giga crepa che c'è qui però vabbè io sono quello del minchiate quindi andiamo ad immergerlo in acqua ma tanto credo perché galleggia sta galleggiando ah si sta riempiendo d'acqua dentro ok dai buchi è sceso ma rimane un pelino fuori però vai giù bastardo entra tutto ok è andato sotto quindi adesso dobbiamo lasciarlo qua per quanto c'era scritto non mi ricordo già più 12 24 ore c'è praticamente questo video lo finirò fra una settimana per questa cagata oh mio dio che palle vabbè comunque adesso io nel frattempo vado a registrarne un altro ho anche bagnato lì fuori e poi ogni tanto tornerò a vedere cosa succede se la situazione cambia se rimane così insomma vi tengo aggiornati facciamo questo piccolo esperimento minchiata insieme quindi adesso voi vedrete subito forse qualcosa io aspetterò ore e ore e ore primo aggiornamento a distanza di vediamo sei ore circa quindi sono passate circa sei ore e la situazione è questa cioè io non so cosa sia questo schifo mi fa un po' cioè guardate è pieno di roba bianca qui sotto sembra che abbia cagato qualcosa di bianco e non lo so non so se si vede è che ho la fotocamera sul cavalletto se no vi farei vedere meglio ma vi assicuro che è una cosa boh schifosissima questo guscio d'uovo è tutto molliccio è tutto boh guardate oddio mio cioè da poi dovrei mettere le mani lì dentro e di là si intravede qualcosa mio dio cos'è quella schifezza lì dai ma sembra tipo pus sembra non lo so ma perché c'è tutta quella roba bianca il culo dell'uovo invece è ancora completamente intatto non è cambiato assolutamente nulla quindi intanto lasciamolo lì ma guardate come svolazza nell'acqua sta cosa che schifo adesso direi che siccome sono le undici e mezza di sera lo lascio qua fino a domani e domani vediamo cosa è successo e se sarà il caso di lasciarlo in acqua ancora allora ragazzi scusatemi ma sono passati tipo tre giorni nel frattempo perché ho avuto un sacco di cose da fare e qui è successo di tutto cioè io non lo so mi fa sempre più schifo sta cosa guardate l'acqua com'è diventata credo che mi toccherà buttare via la tazza perché non so se mi fiderò ancora a verci dentro alla fine il culo dell'uovo è rimasto intatto la parte sopra si è completamente sciolta e oddio pensare che devo metterci le mani dentro per tirare fuori quella roba lì mi viene l'ansia mi sono munito di carta igienica perché ovviamente la carta igienica salva sempre tutto non solo il culo perché adesso farò un vero schifo quindi vediamo siamo pronti allora oddio intanto ma è roba molliccia che schifo no fa schifissimo mamma beh è tutto viscido tanto voglio capire cos'è sta schifezza non so cosa sia successo cos'è sta roba cioè boh vabbè prendiamo sta cazzo di sirena e oddio allora l'ho un po asciugata ma ragazzi cos'è sta roba in più guardate tutta molliccia ma vi giuro se la toccate proprio la rilascia tipo i pezzi poi qui ha questa specie di pisello che non so cosa sia mio dio ma cosa dovrebbe essere questa roba cioè non può essere una sirena non potete dirmi che dovrebbe essere una sirena mio dio cioè vabbè costava un euro le hanno anche colorato un po i capelli ma dicevo costava solamente un euro però boh allora vi dico che effettivamente la consistenza sembra un po una cosa da pesce ma è orrenda cioè guardatele le tette ma cosa sono questa roba saranno mica due tette ma 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 cioè scusate eh questa era sulla confezione questa è quella che abbiamo trovato l'unica cosa che si somiglia forse sono proprio le tette mi viene non lo so però queste non hanno il pisello come questa qui non lo so mi trovo veramente un po in imbarazzo guardate le mie mani guardate che schifo lasciano pezzettini di schifo dappertutto sapete cosa vi dico la ributto nel suo habitat naturale in mezzo alla melma e butto tutto nel cestino comunque ragazzi mi pulisco un po le mani io non lo so sono un po schifato e vabbè comunque non so se questo video vi sarà mai piaciuto se vi va lasciate comunque un like giusto per compassione e tenerezza e pietà forse pena ecco forse più pena nei miei confronti ma vediamo il culo dell'uovo non ho alcuno dell'uovo è completamente duro cioè non è successo niente a forse questa schifezza ecco giusto per risporcarmi le mani forse questa schifezza qui era la roba che componeva la parte superiore dell'uovo e invece quello sotto è fatto di plastica normale che schifo io non lo so mi chiedo sempre come possano inventarsele queste cose visto che sono orrende è carina l'idea che si schiudano in acqua effettivamente perché l'idea è carina però ragazzi sono orrende comunque insomma fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti insultatemi pure per avervi portato questo video non c'è problema avete ragione vi capisco e cercherò di non farlo mai più ve lo prometto intanto ragazzi come sempre iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto se volete seguirmi anche su instagram ci sono anche lì e non vedrete mai queste schifezze intanto vi saluto vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video che sarà sicuramente un po più sensato di questa cosa